Siamo al telefono con Jennifer Sarchie, figlia di Pietro Sarchie. Jennifer, questa mattina una incoraggiante notizia, questa svolta nelle indagini, come l'avete presa voi? Noi di questa notizia siamo felicissimi, perché aspettevamo da 8 mesi questa svolta e certamente non è una vittoria per nessuno, perché mio padre ha fatto una bruttissima fine, ma adesso sappiamo dove partire e dove iniziare a fare la lotta, perché prima non sapevamo nulla, l'unica certezza era che mio padre non c'era più, adesso abbiamo anche dei colpevoli e da questo momento in poi combatteremo. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con noi, che ci hanno aiutato umanamente e professionalmente, in modo particolare la Procura di Macerata che mi hanno sempre sostenuto e mi hanno aiutato e adesso mi hanno dato questa bellissima notizia che aspettevamo.